Tutto è pronto, si va agli ordini dello starter. Partiti a subito in vantaggio Magic Samurai superando Step of Wind. Dall'esterno il volo di Arcor per andare sui primi, poi Shettika, svelto anche Ephysio Dream in corda. Posizioni che si assestano Magic Samurai e Arcor una accanto all'altra. La consistenza del terreno la vediamo in quest'inquadratura. Arcor che passa su Magic Samurai Step of Wind Shettika Kei of My Heart che precede Neretto. Largo Batten Boom allo steccato Alebridge. Arcor, Magic Samurai Shettika Kei of My Heart, Batten Boom, Step of Wind, Neretto Ephysio Dream in retrocesso in coda. All'attacco della letta di fronte Arcor è in vantaggio su Magic Samurai che all'esterno Shettika. Poi sono vicini Neretto, Batten Boom, Kei of My Heart e Fysio Dream Alebridge, Step of Wind in coda insieme a Parnassus che è in corda. Shettika che sfonda su Arcor, all'esterno Magic Samurai, poi muove Kei of My Heart con all'interno Neretto. Poi Batten Boom, Step of Wind e Parnassus con Magic Samurai che va su Shettika. All'esterno Kei of My Heart va per Varchi Neretto, Shettika allunga Neretto fa il taglia fuori. Ora su Magic Samurai, operazione che gli consente di essere vicino a Shettika, indirittura Shettika all'interno dell'Eretto che oggi è sveglio, è già lì. Poi Magic Samurai batten Boom e Fysio Dream, Kei of My Heart e Parnassus con l'Eretto che mette mano alla flutta per attaccare Shettika. All'esterno viene forte Fysio Dream, l'Eretto che prova a scappare da Shettika e dai Fysio Dream. Poi Magic Samurai e Fysio che attacca Neretto, se la giocano, Fysio che attacca Neretto che prova la difesa. E Fysio Dream, Neretto batten Boom. 7-1-8 è l'ordine d'arrivo, vittoria di Antonio Veramosca su E Fysio Dream che ha reso dei conti, che andava a prendere l'Eretto che oggi aveva giocato di anticipo. 7-1, terzo, correndo bene, buono per la prossima, batten Boom. È tutto, linea Enrico Querci sul campo e allo studio se ha bisogno.